Ma che bellezza Ragazzi sta arrivando il drop Sta arrivando il drop Ma non ho sento niente Sta arrivando il drop Sta arrivando il drop Mancano 10 secondi Sta arrivando il drop Tengo Nara Tengo adesso Tengo Nara Eccolo Eccolo Let's go Ok ragazzi Ok ragazzi Vi è andato in questo nuovo video Su Fabio il DJ Ho scorreggiato Far uscire solo Little Nightverse 1 E poi dire Fra un po' di tempo Uscirà Little Nightverse 2 Sti cani Io li amm- Ognuno è proprio tipo Ok Posso chiedervi con molta delicatezza Makes sense Hai visto qualcosa? Ti sei spaventato dal suono? Oppure? Sì Dalla scorreggia di Ero Eh? Però che non è nero Ma hanno fatto i giocatori Che cazzo c'entra? Ah il gioco è zombie Noo Il gioco è zombie Ma che cazzo sta succedendo? Noo Ciccio si sono fatto Ciccio si sono fatto Noo 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 Che cazzo era? Noo 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 Quello sta ancora cantando Ma che succede se premio questo tasto e scusate qualcosa Allora ragazzi Se ne accorciento la si giocare bene Sto premendo il po' Io ti spacco di botte Premi di nuovo Premi di nuovo Ma Tommy buggato Cosa c'è dentro con la macchina? Scopriamolo subito Scopriamolo subito Don't pop the balloons Ah Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Lo stupito Oh Fra sei fortissimo Lo so E vai li dentro che sei E strassi il cordo destro Sì stato gliela farò impugare Non mi permetterò di rovinare quel gioco Tocca a me Tommy 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 Dommi, Dommi! No! Che fai! Zoro era e resterà un mentor per tutti noi che l'abbiamo seguito nel suo viaggio di cancer e non ricordi. Zoro era riuscito anche a imparare il Force War Time per sconfiggere Mater. Ho imparato tutto da lui, da non mollare mai, a riuscire ad ammettere di averlo perso. Zoro segretamente, con un rivolgo nella terra di terra, prendeva tutte le decisioni per tutto per tutti. Ha detto che avrebbe rilasciato la mia figlia. Ma perché non mi avrebbe? Eh, cosa? Ma appena si sarebbe ripreso a cancer. Sono i nostri, in Texas, senza cibo né acqua. Non ho modo di uscire, intanto straneamente che non ho. Inizio questa dieta, dicendo che sarebbe aiuto premere la mia famiglia e evitare aiutare un perso. C'è un malo fatto che te sappia uno di uno. Allora sui racista al negocio. Zoro. 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 Ragazzi prendo un po' di pepsi Giovanni se fai il bravo ti faccio un regalo Sai che lui è il mio idolo Nella cazzo Eh vabbè Vegeta scusa No la Sardegna è stata distrutta Ok non era quello che pensavamo Avrà picchiato anche lui delle donne L'ha baciato Fortnite Ragazzi c'è C'è il dottor Strange e un ciccio No la ringrazio Le scuse non sono accettate Qualificatissimo Qualificatissimo Ma affanculo Non dovessi tenere bloccato Eh infatti Così Ezz Un po' più in là Ezz Vai Bella Vai Quanta forza E madonna E la madonna Ma massi Ma massi in tutto ciò Ok Così Cos'era Cos'era che non ti hanno staccato ok mi masturbo nel metri gioco ma si dorme vedi come al che cazzo è un centro per me ricordate siete covacciati i pattern ogni tanto cambiano questa cosa della spesa non parliamo in continuazione con il passaggio di di max in tutta questa scena è una scena molto cazzo johnny sembra proprio spacciato ok ho trovato la password che cazzo sono morto ma non ho trovato veramente nessun codice no meno ne ho trovato uno mi sta pushando buongiorno papà buongiorno papà non mi ha vista sono stupido sai perché perché a prima vista mi sembra la roba di una donna i migra non c'entra niente ader ma è la madonna apri la bocca mi piace il voice crack 10 9 8 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 8 9 9 9 10 9 11 11 12 11 Spamma! 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 Oh no! È indistruttibile la marca Eh vabbè! Stiamo andando... Eh sì certo! No no ma guarda questa picture Com'è che... Com'è? Io mi immagino uno apre un libro e dice quanto cazzo vorrei saper leggere Non mi f***ing dai Eh vabbè! Partito a spiegare Oh! Cosa? Ma si è dentro quello... Ma come è possibile? Perché sono... È diventato un'allarme anti-incendio Eh vabbè! Ecco dal tipo Non mi aspetta portato a continuare un f***ing... Panne è uno con un 360 stavolta Ahhhh Che sono i rassicuranti Exit, ecci fuori Dove stiamo andando? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Porco! Anna, donna il drift! Eh ma non! 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 Adesso è diventato horror Ma io stavo... Eh vabbè! Eh vabbè! Già ci schiantiamo! Questa continua... Eh vabbè! Di nuovo? Vi facciamo la sessione Eh vabbè! Oh no magari ci sono tre boss diversi No! No ci sono i due Eh ci sono i due Ecco Guardi la passo! Guardalo! 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 Vai, vai! Raga fate una domanda mentre io faccio le flessioni e vado a sbarmi e voglio diventare Dio Ah prima che scu... Dio Dio Dio! Vabbè! Vai super lenta! Bro! L'ho rovinata! L'ho rovinata! Guardalo! Guardalo! La corrosione! Vedete quel... quello zombie? No! 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 Si sta tras... Pfff! Pfff! C'è già cosa... Ah non dovevo tirare entrambi! Che birichino! Oh farbacco! Dio... È sempre colpa tua! Vai a fare in culo muore! F*** you! F***! I don't know! Gai out! Gai Franklin! O.. Oddio, Maardku Allelu! E' divi che apperte fatto quello che penso!? Ok, bravi! 인사�'T F*** Sto sparando? Non avevo capito che stavo sprando io Tu..! Guardi adesso io sto... Ohhhh Mi dispiace molto Si... avete creato tipo o...´gupo la prigione? Oh ma... vi giuro... è una figata! Che cucine di nuove non in verticale Poi ce le bevo di vino ma che cazzo sei blu ci anche ho trovato una voragine ora poi ecco perché il mio dio sve o non delle palle ho scollegato la ciabatta all'ospedale mio non è morto entra nel mio parsec se no io entro in casa tu io posso scegliere tra donne o morbius diventa un guerriero mi chiamo virgola non è vero è vero è vero è vero è vero I don't see, I'm a fool of you, I'm a fool of you Wow! Guarda qua! Ok! Che cazzo è successo? Non sembra cattivissimo Porco du- La musica- Oh mio dio! La musica è quella che cantava lei Che paura che ha ansa- Oh mio dio che paura-